governo guerra fondaio non è un governo guerra fondaio perché se c'è stato un governo che ha lavorato nella diplomazia e negli aiuti concreti alla popolazione alle popolazioni attualmente in guerra è l'italia se c'è un paese che ha cercato di portare soluzioni anche nel contesto di quello che sta avvenendo nel marosso attraverso la missione aspides è il governo italiano che oggi per fortuna nell'ambito europeo e non solo è una parte che è un attore non è una semplice comparsa quello che io vedo negli altri paesi in modo particolare paesi europei che l'opposizione in cui ci sono argomenti su cui va ad incidere la sicurezza nazionale e la difesa nazionale c'è una compattezza nazionale che in italia non c'è ahimè e questo è un ramarico perché indebolisce tutto il paese in una risposta che va verso quella richiesta di pace e non ho capito quali sono le cose che stiamo facendo per raggiungere per chiedere a israele ma neanche io ho capito la vostra proposta perché al di là dei proclami la nostra proposta è cercare di disarmarci e di parlare con quali argomenti ma non l'abbiamo mai detto come ha fatto il vostro ministro quando era venuto in aula assolutamente sono risposte populiste le vostre che non hanno dei fatti concreti delle proposte concrete è aria fritta ma voi vi rendete conto che riassumere la politica del movimento 5 stelle in pisa e love è un discorso da bar che non ci possiamo più permettere lei continua a dire la situazione rischia di sfuggire di mano è già sfuggita di mano io non so se ci stiamo rendendo conto della situazione non rischia è sfuggita di mano quindi se non vi rendete conto dove può arrivare l'ho detto prima ad una terza guerra mondiale quindi se non si capisce che quello che sta succedendo nel mondo medio orientale è collegato a quello che succede in palestina e c'è un occidente che non riesce a chiedere seriamente a israele di fermare quello che è successo in palestina non andiamo da nessuna parte mentre voi attaccate l'opposizione dicendo peace and love di là si sta compiendo un massacro che sta innervosando una ragione forse siete di tratti io spero io spero veramente l'occidente ha chiesto il cessate il fuoco e mi sembra di capire che non sta andando benissimo con la liberazione degli ostaggi quindi secondo voi israele dovrebbe far finta che 1400 persone sono state massacrate nel peggiore dei modi e si sterminano 30.000 persone a fronte di questo e si sterminano 30.000 persone posso chiedere un time out come si dice nel basket intanto si deve fermare il massacro del palestina vi prego solo un attimo Roberto scusami